Alvia, giovani che leggono, il tempo della lettura nell'età di Netflix al Teatro Maggiore di Verbania. Un'occasione di incontro e confronto per fare il punto sulla relazione tra i ragazzi e i libri e per ragionare sulle migliori strategie da mettere in campo per un'efficace educazione e promozione della lettura a livello locale e nazionale. L'iniziativa presentata nei giorni scorsi è di Sherasad Associazione Culturale insieme con Letteraltura e con il sistema bibliotecario del VCO per festeggiare il decennale del progetto liberamente destinato agli studenti delle scuole secondarie. Il clou sarà la giornata di studio di sabato anticipata da due appuntamenti, stasera con il medico psicoterapeuta e scrittore Alberto Pellai e domani, venerdì alle 17, con Melville Burgess, uno dei più noti scrittori inglesi per i giovani. Scrivere per ragazzi tra onestà, veridicità e dovere educativo il tema dell'incontro con prenotazione obbligatoria gratuita sul sito www.giovanicheleggono.com. Sabato, dicevamo, l'intera giornata dedicata con relazioni nella mattinata e workshop al pomeriggio. Tra gli ospiti il sociologo Stefano Laffi, gli esperti di letteratura per ragazzi Fernando Rotondo e Nicola Gallila Forest e Barbara Schiaffino e Martina Russo della rivista Andersen.